Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi voglio parlarvi di un argomento molto attuale nel mondo dell'SMR e cioè il rapporto tra ASMR e televisione e ASMR e mondo fuori da Youtube è un argomento di cui ho voluto parlarvi tanto però diciamo che mi è sembrato proprio il momento giusto adesso voi state vedendo questo video lunedì 11 e per chi non lo sapesse sabato 9 è stato un giorno importante per l'SMR infatti l'SMR è stato un concorrente a Tusichevales, ho fatto dei complimenti io sono stata ospite a Reddj con Daniele Bossari e Federica Cazzola che sono stati gentilissimi e tutto ciò solo sabato 9 quindi e poi in generale l'SMR comunque sta approdando un pochino il mondo della televisione, ne stanno un po' parlando, stanno facendo servizi eccetera in questo video voglio parlare bene un po', voglio fare un po' il riassunto di quello che mi ricordo di ciò che abbiamo visto in tv, nei giornali eccetera e anche voglio dirvi cosa ne penso, quali sono un po' le mie paure, i miei timori e dirvi un po' anche un minimo di cose per quello che vi posso dire insomma e poi guarda infine sapere nei commenti cosa ne pensate voi per aprire un pochino un confronto di idee provo anche un nuovo trigger oggi, questo è un giotto vecchiotto no? volevo provare, volevo provare il gelatino squishy però poi ho pensato dobbiamo cambiare leggermente tra l'altro per oggi era e ne proviamo un roleplay che ho preparato da tantissimo tempo e probabilmente uscirò venerdì il prossimo che dovete guardare anche solo per l'impegno che ci ho messo allora intanto appunto abbiamo avuto tu si che vale sabato e io ero da dj sabato in radio ne hanno separato diverse volte, le dj ne hanno separato diverse volte più o meno bene diciamo che mi ha fatto piacere essere ospite anche per dire la mia per confrontarci, insomma perché parlassi qualcuno che un minimo ne sa e poi in radio ne hanno parlato anche, non so, radio 105 ma in tante veramente radio anche molto importanti poi in televisione recentemente anche strisa notizia ha fatto un servizio che devo confessarvi ho avuto il coraggio di vedere solo oggi questo perché ogni volta mi crea molta agitazione vedere queste cose perché ho sempre un po' di timore per cosa diranno vi confesso che l'ho accettata io per lori a vedere la registra cioè l'ho guardato dopo perché ho saputo che c'era lori l'ho guardato stamattina ed ero agitatissimo per lui vi giuro quindi e poi tra l'altro l'ho lasciato anche ospite a ciao darwin poi sto leggendo qui perché mi sono segnato un po' di cose per porre di scartarmele poi vediamo sono stata ospite ai soliti ignoti da Parilla ospite insomma concorrente cioè concorrente un ignota ecco e poi Sara J aveva partecipato a un programma direi uno alla domenica non mi ricordo bene come si chiama però si l'avevano chiamata a fare anche un un'esibizione una una dimostrazione ecco e poi su Rd4 erano avatesi e l'avevano chiamata per fare anche lì una dimostrazione e si parlava di smr in quel in quel programma in cui non mi ricordo come si chiama però è famoso si forum su forum quello con il giudice due persone che li dicono su qualcosa eccetera e avevano fatto diciamo gli attori avevano fatto un teatrino riguardo all'smr e poi si aveva detto la sua aveva fatto una dimostrazione non penso fosse non so se fosse diretta no comunque non era diretta però insomma anche lì un po' di emozione c'è era proprio lei in primo piano era veramente e poi Federica eravamo state intervistate da Nemo e ha usato un servizio su Nemo pessima esperienza bruttissima è stata secondo me la prima apparizione dell'smr in televisione e entrambe non c'è cioè il servizio non era per niente bello onestamente e poi Kiki e Feiri avevano anche registrato diciamo un aspetto di documentario sull'influencer che ero cito su Rai1 sulla Rai comunque mi sembra e però le avevano escluse cioè non avevano visto il loro servizio in tv quindi tipo le avevano escluse si vede che ho andato qualcun altro non lo so però le avevano usiato tutto vabbè poi con le testate giornalistiche onestamente mi ricordo solo quelle in cui hanno intervistato me perché non ci sto troppo dietro in realtà il Corriere della Sera mi aveva fatto una bellissima veramente bellissima intervista e chiaro cita sia online che che sul giornale cartaceo mi aveva fatto veramente tanto piacere e mi aveva intervistato anche su sette che settimanale del Corriere della Sera e cita anche ad esempio una video intervista su la Repubblica in l'occasione del del pop-up youtube pop-up space di Milano anche quella molto carina è uscita un'intervista su Two Style su Rolling Stones e anche altri ragazzi però onestamente scusate anche il resto del Carlino sicuramente ora mi vengono in mente queste però comunque capite che si sta tanto diffondendo anche Italia 1 aveva fatto un servizio sull'smr non chiedendo permessi a nessuno però che per dirvi comunque che c'è una grossa portata ne stanno parlando sempre di più allora allora devo dirvi la verità io ho di occasioni di andare in televisione ne ho avute tante di tutte di tutti questi programmi che vi ho detto solo ciao darmi non ero stata chiamata ammetto ammetto che proprio non mi avevano assolutamente contattato considerata niente del resto tutti i programmi che vi ho detto sono io che ho rifiutato e ve lo dico non per dirarmelo cosa ma per farvi capire un ottimo la mia posizione a riguardo io però l'ho aggiuntato solo i soliti gnoti Nemo sarà che io sono parita con Nemo che è stata talmente un'esperienza brutta che mi ha fatto un attimo allontanare dalla televisione e da tutto questo mondo a soliti gnoti è stata invece un'esperienza molto carina molto e molto gentile e poi diversa si è ogni tanto carina guarda queste cose e ripeteremo mi sono trovata benissimo ci sono state veramente tantissime occasioni cioè se io volessi diventare un personaggio televisivo penso ci riuscirei abbastanza comunque la televisione si sta aprendo molto in modo di youtube per avvicinarsi ai giovani non è perché siamo magnani mia cosa sei chiaro ma e poi tra l'altro alcune cose poi non vanno non vanno in porto però e mi hanno fatto tante proposte appunto di partecipare ad altri programmi e io non me lo sono mai sentito onestamente tra l'altro adesso ve lo dico proprio così c'è in mano anche una tarda lavorativa che è pieno di aver rifiutato però ci sto un po' pensando sopra e vedremo insomma insomma però e sono sempre un po' restia riguardo alla televisione in particolare perché perché io vengo dal mondo di youtube e su youtube ragazzi io ho il controllo cioè io ho il controllo del mio canale io ho il controllo di ciò che dico io ho il controllo dei commenti cioè io su un commento non mi piace lo posso benissimo cancellare e in televisione invece onestamente loro ti portano dove vogliono loro e soprattutto un po' come tutti i personaggi di youtube è un po' uno sfruttamento nel senso che sfruttano la tua fame tra l'altro non crediate che veniamo pagati per fare nulla di tutto ciò minimamente cioè proprio no giusto per essere chiari e quindi sì in televisione diciamo che non hai il controllo loro fanno un po' quello che vogliono ti dicono l'attenzione verso ciò che vogliono magari tu gli dici non vorrei che dicesse questa cosa invece la dicono mi ricordo il caso di Sara che lei non voleva che dicesse che dicesse lo suo cognome giustamente e l'hanno detto e poi lei non ha neanche potuto dire che faceva video su youtube capite? quindi già magari il pubblico che gli era interessato non è spero di youtube non sapeva neanche dove trovare questi video non ha potuto dire il nome non ha potuto dire niente del suo canale e capite che è molto brutto secondo me anche lì non si sono comportati bene e quindi io sempre qui lì veramente cambio da programma a programma quindi lì è sempre un po' un ternalotto quindi in sostanza io sono sempre un po' diffidente su queste cose e non sapeva esattamente quando sarebbe stato eccetera avevo molta paura a riguardo e diciamo che comunque ci ha fatto una discreta figura allora lì diciamo che ce l'è stato molto bravo molto carino penso che la cosa delle coperte dei giucci e degli orsacchiotti è stata assolutamente diretta dalla regia non immaginate che sia una sua una sua trovata minimamente siccome lui avrebbe evitato molto volentieri però capite che già già ci giocano un po' sopra hai capito? perché la televisione deve fare questo effetto come un po' con un po' anche youtube diciamocelo bene e è sempre così quando si tratta di attirare gli spettatori e tipo ho visto Maria di Filippi che non si è comprata benissimo anche mezzo insultato a un certo punto è una parola che non voglio dire qui però non è stata troppo carina Sabrina Periglia è stata carinissima dolcissima e tra l'altro lì è stato fortunato a lui a trovare qualcuno nella giuria che conoscesse questi video e che ne parlasse bene perché è importante perché quando un'intervista è fatta da una persona che non ci capisce niente e quindi lì solo per giudicare per magari vedere e vedere solo le cose particolari di questo mondo è molto più difficile far capire invece quando c'è qualcuno che apprezza e che sta dalla tua parte rende le cose molto più semplici davvero o poi magari non è vero semplicemente lei mi hanno detto guarda tu devi fare questo personaggio vi spieghiamo cosa sono a cui piacciono e devi difenderlo eccetera magari così è perché questo non lo so però potessi che sia anche così tra l'altro però di fatto è stata molto carina e alla fine lui è passato non seguo quel programma non so se quindi riapparirà in un'altra puntata andrà avanti onestamente non ho idea comunque mi fa piacere per lui e soprattutto ho avuto veramente il coraggio di farlo perché io no cioè ve lo dico onestamente io ho rifiutato tante cose tante tante ogni volta che mi chiedono di fare cioè ogni volta che mi dicono guarda ti invitiamo anche per fare questa esibizione io tendo sempre a non accettare perché? perché l'SMR è fatto per essere ascoltato con le cuffie per essere ascoltato o poi magari domani vedrete in tv a fare una dimostrazione perché però la mia paura è sempre che sia frainteso che non sia capito perché non è il luogo la televisione in cui farlo ma è YouTube è il web e giustamente anche tutti che vale se l'hanno spiegato che andrebbero ascoltati con le cuffie eccetera quindi insomma dipende però ci vuole comunque tanto carazzo ma perché non perché mi vergogni c'è scritto anche un libro ragazzi però perché in televisione non controlli che vuoi il giudizio degli altri e c'è un pubblico molto ampio un pubblico che non è il tuo pubblico è tutta un'altra storia quindi la mia paura è sempre quella che venga fraintesa che venga tra l'altro perché viene sempre sottolineato l'aspetto se in un servizio c'è sempre la parte in cui qualcuno lecce i microfoni anche se in Italia io praticamente non la mi sto mai fare tra l'altro però c'è sempre quella parte e c'è sempre la parte diciamo più spinta dell'smr che ad esempio nel mio caso non c'è quindi è sempre un po' così capita si spinge sempre più da quel lato al posto che dall'altro e quindi io sono molto 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 restia probabilmente la mia paura però è anche di starmi cercando forse molte opportunità lavorative anche da un certo punto di vista perché dall'altra parte magari avendo più visibilità potrai in futuro avere delle opportunità lavorative e a me è un po' una posizione difficile da un certo punto di vista non so se riuscite un minimo a capire però io ci tengo tanto l'smr e voglio sempre che sia preso con serietà voglio dire adesso una cosa sul servizio di striscia che tra l'altro penso fosse molto peggio è fatto molto bene a parte quella cosa che la definisce una non lo dico perché dopo YouTube mi toglie l'umatizzazione sicuro e di però lì cosa? da quando se lo sono inventati loro? oppure che non è adatto alle persone cardiopatiche con epilessia o con problemi psichici non è vero? cioè alcuni psicologi lo consigliano come diciamo terapia coadjuvante non ovviamente la singola terapia però lo consigliano quindi è un po' una cavolata e anche lì insomma hanno poi penalizzato noi perché molti ragazzi mi sono venuti a scrivere i miei genitori sono molto preoccupati perché hanno detto che è questo perché hanno detto che non va bene per e io sono lì ok per quanto il servizio fosse fatto abbastanza bene striscia non è nota per essere non è nota per essere un programma di divulgazione scientifica quindi insomma guardate sempre un po' a chi ascoltate che cosa state vedendo e chi lo sta dicendo comunque e l'SMR fondamentalmente sto raggiungendo comunque degli importanti traguardi appunto io ho pubblicato un libro per chi non lo sapesse il potere di un censurro la prima guida italiana l'SMR per chi non lo sapesse ancora è un video che appunto tratta di ASMR a 360 gradi dal mio punto di vista di creatrice di contenuti ovviamente e ne sono tonto fiera del mio bimbo per finire ditemi ditemi voi cosa ne pensate ditemi cosa che effetto vi fa anche che l'SMR sia un po' sfruttato dalla televisione sotto certi punti di vista in realtà sfruttato molto anche nel marketing non so se avete visto la la famosa notatrice che ha fatto la pubblicità SNR per una nota compagna di shampoo tra l'altro per me è venuta malissimo quella pubblicità non perché fosse fatta male in sé ma perché era proprio l'odio che faceva schifo cioè si vede che non c'era nessuno lì in mezzo che sapeva cosa stava facendo non lo so mi ha dato un po' l'idea un po' questa idea chiuso parentesi io vorrei tanto sapere i vostri vostri pareri vorrei tanto che ci fosse del confronto nei commenti davvero perché non ho mai portato questo 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 contenuto sul canale questo questo dibattito ed è forse il primo video così mio più o meno quindi mi piacerebbe davvero sapere la vostra opinione anche probabilmente io sono particolarmente paranoica su queste cose sono fatta così non lo so ci penso veramente mille volte prima di fare una cosa prima di accettare una cosa e fidatevi comunque su tutte quelle che avete visto in televisione che vi ho detto se ne sono altre tante che non sono andate in porto per dirvi mi avevano anche contattata per fare un provino però reality cioè è una reality nuova non idea neanche di quale fosse alla fine però per dirvi che proprio ci sono veramente tante possibilità di diventare un personaggio televisivo siete però contro? io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e penso proprio sia giunto l'ora di di passare a passare tru e curare e una buona 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 buonanotte buonanotte sono io dormo buonanotte buonanotte good night good night good night sweet dreams sweet dreams buonanotte 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 good night buonanotte, 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 come diventi una costa, ripiena di madella un bacione cali spera grazie